musica 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 saluta a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Cosmos e oggi siamo tornati su Cluster Track piccola premessa questo gameplay lo sto facendo immediatamente al ridosso del secondo quindi non ho neanche idea dei commenti che avete scritto nel primo ma va bene così eravamo arrivati al secondo mondo, primo livello andiamo tutti insieme appassionatamente si ok ok già mi piace l'ambientazione mi piatta ma una tonna ma vi pare il modo di lasciare un albero lì allora saltiamo ok ok ma perché c'è quest'aria verde tipo cianuro a terra non lo so ma ci arrivo ok ok piano piano salta oppa oppa ok ragazzi ok lì si schiantano si schiavellano salta oddio come l'ho fatto non lo so andiamo così che poi è pure bella la musica per carità perché volano camion ma stiamo cadendo stiamo cadendo cacchio no no non l'avevo visto cacchio dai qua volano qua vol no senta scusi un attimo si grazie gentilissimo gentilissimo grazie e allora no 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 ma donna mi eccetera prima togli di partita umate no 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 non no dolile ho fatto il filo aspetta if no 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 non no non 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 none ok questo e' stato facile ragazzi Andiamo avanti Andiamo così Dai ce la possiamo fare Dai ce la possiamo fare Dai ce la possiamo fare Oh 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 Che c'è? Che c'è? No 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 È troppo lontani Troppo lontani Piano 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 Sono proprio Sul parabrezza del tizio Le do facili Scusi Vada così Vada così Sì grazie Ok ragazzi Stiamo andando lisci Come l'olio Non vorrei neanche dirlo Ok 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 Dove Da questa parte Così Salta 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 Sì Oh Oh Ok Ok Da questa parte Andiamo Piano 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 Qui è la festa Di grazia Si faccia No questo Una donna Di calcare Piovono camion Vai così No No non è quello il modo Di affrontare Quella parte Del livello Del livello Allora Dai salta Ok Mi sono arrampicato Tipo Assassin's Creed Piovono camion Piovono camion Piovono camion Piovono Salta Salta No E anche così Allora Dobbiamo essere veloci Ho già capito Dobbiamo essere veloci Quindi andiamo veloci 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 Dove andare velocemente 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 Sì 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 Vedo esplosioni Vedo camion Che volano Aspetta Aspetta Di grazie Di grazie Di grazie No Dai Però Sì Allora Veloce Veloce No Piano Veloce Non lo so Così Vado così So far fugliando roba Ma evidentemente Funziona Sì No Si stringe Si stringe Si stringe Si stringe Madonna 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 Oh Gesù Quello come ha fatto In zero Vabbè Cittone In zero Ma come fanno Dai Cittone Che non siete altro Andiamo Dai Ci possiamo fare Dai Ci possiamo fare Ok Così Che cosi Qualcos Che cosi Parliamone Ma io ancora Non capisco Perché no Perché qui Il pavimento Si è fatto Oddio Diciannuro Oddio 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 Sei Ultimo Ultimo No vabbè No vabbè No vabbè Aspetta Parliamone Parliamone Ok Ok Andiamo avanti Qui si schiavellano No 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 Aspetta Da questa parte Aspetta Da questa parte No mi scusi Mi scusi Vabbè Paffan Allora Ok 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 Dove sono gli altri Dove sono gli altri camion Camion Servono altri camion Sì Sì No 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 Ero perfetto Ero perfetto Cacchio Cacchio Dai Madonna Mi sono stampato Il tronco in faccia Proprio Sono Lelelelelelele Non posso piano 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 senta scusa perché lo spingi sì così no scusa me lo annusa no ragazzi fate finta che io non abbia detto nulla ok ok no 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 dai però perché mi allora ce la possiamo fare ce la possiamo fare è facile cosmo devi solo devi solo evitare di prendere il tronco in piena faccia e di cadere come un imbecille questa musica tipo matrix revolution non so perché ho fatto anche l'effetto rallenti da solo il budget è poco e quindi ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo sì 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 scusa 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 me lo non usano no dal proprio pop nonna non lettera no 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 non si nota no 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 dicevo io che era no ragazzi veramente va tosto sto livello porco le bestemmie pro te ne vede dai avevo stavo citando Poi in effetti potrei citare passando sotto questi cosi Oh, ho citato l'ultimo, l'ultimo l'ho citato Allora, dai, su, sì, 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 no Cazzo Questo è il karma, ragazzi, siccome ho citato Lui mi ha fatto morire in modo a modo, ecco, infatti Adesso me la sta facendo pagare il gioco, capito? Perché siccome ho citato Allora, piano, qua si deve andare con... Calma Beh, però... Allora, con calma Con calma Dai, l'ho saltato quello, l'avete visto tutti Con calma, sì Ok Aspetta, aspetta, aspetta Fammi capire, da questa parte, togliti, togliti, camion Ecco, a questa parte Piano, piano, non scoppiare, non scoppiare, non scoppiare, non scoppiare E sì! Sì! Ho preso il goal in piena faccia, ma sì! Ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, questo è solo il secondo mondo e questo... Dai, come fai? Zero seg, dai, come fai? Ah, vabbè, ma scordo zero, però Ok, ragazzi, questo era solo il secondo mondo Noi adesso dobbiamo andare nel terzo winter e vai Vabbè ragazzi, questo era Cluster Track Lasciatemi sapere giù nei commenti se volete altri gameplay di questo gioco E noi ci vediamo in un prossimo video Un saluto al vostro Cosmos, alla prossima Ciao! Si, no, ci sono camion contro mano, ci sono camion contro mano, aspetta, dove l'arrivo? Non lo so Non lo so Non lo so, ragazzi, sono arrivato per volontà divina e non di birro Dai, 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 no, 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 no Grazie a tutti.